Per trascenderle, ho letto che Ebba, la giovane, badessa del convento benedettino di Caldingham sul confine scozzese, durante un'incursione danese nell'870, temendo per la propria virginità, si deturpò il viso e invitò le sue monache a fare altrettanto. I danesi incendiarono il convento e tutta la comunità morì tra le fiamme. Perché? Commento. Perché la fede, che è la vibrazione della materia del piano della coscienza e non delle materie più grossolane del piano mentale e del piano fisico, si sottopone alle esperienze della vita fisica con un intenso spirito di sacrificio per trascenderle.